E quindi proviamola fuoristrada, sia seduta che in piedi è comodissima Ciao, io sono Fabio e mi attrae tutto ciò che ha un motore, in particolare le moto Quest'oggi proviamo la Yamaha Tenerè 700 versione World Raid Perché come alcuni di voi ricorderanno ho già provato la Tenerè 700 versione base Ma mi è stato proposto di provare la versione World Raid, potevo mai rifiutare? Quest'ultima ha un doppio serbatoio da 23 litri con il quale si possono fare 500 km Nuova strumentazione a colori TFT alla quale è possibile connettere il cellulare Motore 689 di cilindrata Euro 5 Con 74 cavalli a 9.000 giri e 68 Nm di coppia a soltanto 6.500 giri Peso appieno della moto di 220 kg All'anteriore troviamo dei doppi dischi da 282 mm Invece come sospensioni abbiamo una forcella a steri rovesciati da 43 mm E un mono al posteriore regolabile da remoto Entrambi con 20 mm di escursione in più rispetto alla versione base Inoltre è presente anche l'ammortizzatore di sterzo Hollins, questa è una vera chicca Infine troviamo all'anteriore un bel 21 pollici, mentre al posteriore un 18 Ed esce di fabbrica con le Pirelli Scorpion Rally Adesso sapete tutti i dati tecnici E direi che non ci rimane che andarla a ritirare dalla concessionaria ufficiale Yamaha Debert Qui a Bari in Puglia Andiamo! Primissimi chilometri insieme a questa Tenere 700, questa volta però World Trade Subito qualche particolare diverso rispetto alla versione base si nota eh Altra importantissima novità che si nota subitissimo su questo modello è soprattutto il doppio serbatoio Che funziona con la teoria dei vasi comunicanti Quindi non è importante se fate benzina nel sinistro o nel destro il livello rimarrà sempre uguale E adesso ve lo dimostro Benzinaio In questo caso apriamo il serbatoio sinistro Benzina e andiamo a mettere qualche litro in questo serbatoio così da divertirci per bene E ora accendiamo e ripartiamo Ma siccome io sono curioso di provarla fuoristrada Non voglio aspettare un secondo in più per andarci Quindi giriamo qua a sinistra e facciamoci questa bella stradina Perché come avrete capito questa moto e soprattutto questa versione World Trade È una versione pompata per andare fuoristrada E quindi proviamola fuoristrada Tratto in fuoristrada alziamoci un minimo Sia seduta che in piedi è comodissima Non si fa proprio sentire fuoristrada Forse prima differenza che nuoto in fuoristrada È il doppio serbatoio più largo È leggermente più scomodo della versione standard Almeno secondo il mio parere Qua si balla Alziamoci di nuovo Però è stabilissima così su queste strade Ma mi sa che è arrivato il momento di tornare sulla strada normale O almeno asfaltata Vediamo un po' l'accelerazione Vediamo Instabilissima anche ad alte velocità Merito dell'ammortizzatore di sterzo Tra l'altro un bel holins eh Ma siccome adesso fa molto molto caldo La migliore idea che mi potesse venire È di andare in foresta Foresta di Mercadanti Arrivo E per arrivare in foresta Devo fare un piccolo tratto di statale Così la proviamo anche in questa condizione Instatale Instatale Sembra molto comoda Tra l'altro è stato totalmente annullato Anche l'effetto un po' di spacchettamento Grazie all'ammortizzatore Unica cosa Riscalda un po' sul lato destro Proviamo Accelerazione Piccolo sorpasso La cosa bella è che questa World Raid è stabile anche alle alte velocità Usciti ora dalla statale Ci facciamo questa bella stradina Così da arrivare in foresta E lì stare sia freschi che divertirci per bene E soprattutto testare questa World Raid E adesso stiamo entrando proprio in foresta Mercadante Alziamoci in piedi da questo momento in poi Tutto in piedi Anche perché guardate un po' come è messa già questo tratto La cosa magnifica è che su qualsiasi asperità Lavora benissimo questa moto E queste sospensioni Che pace Proprio silenzio e natura È una bella Tenere 700 Rimane comunque semplicissima la guida in piedi Semplicemente un po' più scomoda per via del serbatoio Si ha un controllo assoluto sia seduti che in piedi Giriamo qua a destra che diventa veramente sterrato ora Tra l'altro anche il cavalletto è già maggiorato Proprio come modello base In modo tale da non avere problemi a parcheggiarla Anche in queste situazioni E ora sentiamo il sound di questa Tenere 700 World Raid Completamente originale Oggi qualche considerazione sulla moto Ve la dico direttamente qua dal garage Purtroppo era troppo forte il rumore delle cicale in foresta Fa caldissimo ormai Trovo questa Tenere 700 in versione World Raid molto estrema Ci si può fare veramente di tutto Anche se rispetto al modello base perde un po' in comodità Soprattutto per il doppio serbatoio Che toglie spazio utile alle gambe Rendendo così il tutto un po' più scomodo Per il resto confermo tutto ciò che ho detto nel video dove ho testato il modello base È una moto tutto fare E sempre pronta all'avventura In questa versione World Raid ancora di più Siccome va meglio sia in strada grazie all'amortizzatore di sterzo Sia va meglio anche in fuoristrada grazie alle sospensioni riviste Io non vedo l'ora di continuare a guidarla Quindi direi che è arrivata l'ora di risalire in sella Ho anche spoilerato su Instagram la moto che avevo in prova Seguitemi così non vi perderete più nulla Tra l'altro veramente molto belli Soprattutto anche i dettagli Infatti questa parte qua è camo Ovvero mimetizzata Così da non far vedere anche lo sporco Abbiamo poi i parasteli Paracoppa bello protettivo qua sotto E tante altre protezioni sparpagliate qua e là E qui ovviamente ammortizzatore di sterzo E queste belle forcelle Tra l'altro dietro sta anche il mono ammortizzatore Non si vede bene ma qua sotto c'è la manopolina per precaricare o scaricare Ma adesso direi che è arrivata l'ora di tornare al concessionario Anche perché è un po' tardino e la devo riconsegnare Tra l'altro un bel sound eh E andiamo Unica cosa di cui mi sorco urgente in questi chilometri in sella a questa bella moto E che ti costringe ad avere una posizione di guida un po' arretrata Questo perché? Perché appunto stando qui in avanti Le gambe e soprattutto le ginocchia Vanno a sbattere contro i serbatoi E quindi per viaggiare comodo e riuscire a stringere per bene Entrambi i serbatoi con le gambe Non c'è altra soluzione che farsi un po' più indietro E così si sta comodi Cosa bella è che secondo me questa è molto più adatta alle lunghe tratte Perché grazie all'ammortizzatore di stezzo che sta montato qui Si possono mantenere velocità molto più alte rispetto al modello base Per esempio in autostrada non si avrebbe nessun problema Unica cosa a quale bisogna stare un po' attenti è l'altezza di questa moto Infatti essendo un centimetro e mezzo ancora più alta la sella rispetto al modello base Ovviamente risulta un po' difficile se non sia almeno un metro e ottanta E comunque fidatevi fa divertire per bene anche su asfalto e tra le curve di percorrenza Io questa moto la trovo veramente divertente in qualsiasi ambito l'andate a utilizzare Su strada asfaltata, fuoristrada, dove andate andate e vi divertite Unica cosa che magari poteva essere inserita su questo modello World Raid Se ne è stata un po' di elettronica in più Perché sotto quell'aspetto elettronicamente cambia soltanto l'LCD qua davanti Adesso tornando verso il concessionario vorrei parlare di una cosa in particolare Ovvero perché preferire una World Raid rispetto al modello base? Perché sia l'una che l'altra hanno pro e contro Iniziamo parlando dei pro del modello base Ovvero è più leggera rispetto a questa Leggermente più bassa Costa ovviamente anche di meno E a mio parere è anche secondo me più comoda per la guida in piedi Ma in realtà non solo, anche stando seduti si ha più spazio per le gambe Quali sono invece i pro di questo modello World Raid? Prima di tutto il reparto sospensioni Che ha una qualità più elevata rispetto al modello base Come seconda cosa il serbatoio Perché permette di fare 500 km Che su una moto come questa sono tantissimi Per farvi capire usando questa moto Vi basterà fare in tutta la giornata di utilizzo Massimo un rifornimento al benzinaio Così da avere 1000 km a disposizione E chi li fa mai 1000 km in un giorno? Un po' difficile con questa moto Altra cosa bellissima ce l'abbiamo qua avanti Ovvero l'ammortizzatore di sterzo La moto così è molto ma molto ma molto più stabile Ad alte velocità e soprattutto su asfalto Così rallentere la guida stradale ancora più divertente E infine ma non per importanza c'è lui ovvero la strumentazione Completamente rinnovata e anche il collegamento con il cellulare Questo è proprio un dato di fatto questa è veramente più bella Tra l'altro anche la possibilità del roadbook Che è comodissimo se fate uscite in fuoristrada Quindi riassumendo un po' Da un lato abbiamo la TNR 700 modello base Adatta secondo me alla maggior parte delle persone Più bassa, meno costosa e anche un po' più facile da guidare Mentre d'altra parte abbiamo la World Raid Ovvero questa qua Molto più estrema Doppio serbatoio Sospensioni riviste leggermente più alta E quindi tutto sommato molto più propensa a fare fuoristrada serio Cosa prendere io vi starete chiedendo Personalmente mi piacerebbe molto una TNR 700 base Però con la sua strumentazione e il suo ammortizzatore di sterzo Un po' difficile E' sempre pronto questo bicilindrico Ve lo faccio rivedere Ritornando però al discorso strumentazione Sostanzialmente ci segna tutto ciò che ci può essere utile In particolar modo è molto visibile sia la veloce attuale ma anche la marcia Tra l'altro poi possiamo tenere premuto questo E non lo possiamo fare in movimento a quanto pare Poi appena mi fermo ve lo faccio vedere Come vedete adesso che mi sono fermato Tengo premuto questo e posso entrare nelle impostazioni Tra cui ci sono i temi Explorer, Street e Raid Ma adesso ripartiamo se no non arrivo veramente più dal concessionario Ultimissimi chilometri insieme Purtroppo Guardate un po' qua Ora svoltiamo qua a sinistra e siamo arrivati alla concessionaria Se anche voi volete provare questa tenerezza Se siete 100 World Raid oppure siete interessati a qualche altra moto Yamaha Trovate il link della concessionaria in descrizione Io spero di avervi intrattenuto e perché no e servi stato d'aiuto con questo video Se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi e lasciate un bel like Così da supportarmi al meglio e spronarmi a portare nuovi contenuti Inoltre vi ricordo di passare dal canale telegram offerte motori Dove ogni giorno vengono pubblicati i migliori sconti e offerte per noi motociclisti Fidatevi fateci un salto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao